... 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 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dalla grotta delle apparizioni del Santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti coloro che sono collegati con noi attraverso TV2000 e il sito internet del Santuario. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Affidiamo a Maria le intenzioni di Papa Francesco. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono, i cui nomi deponiamo ora sull'altare, affidandoli a Maria, la Vergine Immacolata. Preghiamo questa sera con i misteri dolorosi. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Gezzemani. Entrato nella lotta, Gesù pregava più intensamente e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Gesù, nell'orto degli ulivi, vide il fiume fangoso e ripugnante del peccato umano e ne provò orrore e dolore. Vide anche il nostro peccato. Mentre preghiamo questo mistero, Dio ci conceda di riconoscere il nostro male, l'amarezza che contiene e tutta la devastazione che può produrre in noi e attorno a noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Lascia oggi il nostro padre in tutti i amici e benedetta a noi i nostri denti, come noi i benedetti amici i nostri dettori e la cittura in terra. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Nella passione di Cristo, la cattiveria umana ha reagito di fronte alla bontà di Dio. La percossa, la flagellata e Dio si è lasciato percuotere per dare una svolta alla nostra storia attraverso la terapia dell'amore. Ogni nostro dolore, accompagnato al dolore di Gesù, trova sollievo e forza nonostante tutto. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane e il tuo regno, che ne remetta a noi i nostri legni, come noi rimettiamo i nostri creditori, e non ci vuole l'interazione, ma non ci vuole la giusta male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prego per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come è il Signore, sempre nel senso di Gesù. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciato una corona di spine, la posero sul capo di Gesù, e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano, salve, re dei giudei, e gli davano schiaffi. Nel bel mezzo della sua passione, Gesù dice, il mio regno non è di questo mondo. Il suo mondo è quello liberato dal male, segnato dalla bontà senza finzioni, dalla carità senza limiti, dalla bellezza senza trucchi. Un mondo sotto il segno della misericordia di Dio. Un mondo che ci è offerto, nonostante la nostra malvagità. Gesù vuole costruire il suo regno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane, il tuo regno, e venite a noi i nostri debiti, come noi venitiamo i nostri debitori, e non ci intuere in prestazione la maniera della sua madre. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi e per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi e per noi. Adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era il discircolo del seno, Gesù. Amen. Quarto mistero doloroso. La salita di Gesù al Calvario carico della croce. Pilato lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Essi presero Gesù, ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha. Signore Gesù, si sta spegnendo l'amore e il mondo diventa freddo, inospitale, invivibile. Spezza le catene che ci impediscono di andare verso gli altri. Aiutaci a ritrovare noi stessi. Donaci di portare la nostra croce, di accogliere la tua parola e ti seguirti, là dove tu sei arrivato, fino al Calvario. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è il frutto del nostro amore, amè. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Maria, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Gesù, amè. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Stava presso la croce di Gesù, sua madre. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse, tutto è compiuto, e chi nato il capo consegnò lo spirito. Qualcuno stoltamente ha pensato che Dio è morto, ma se muore Dio, chi ci darà ancora vita? Se Dio viene meno, che cos'è la vita? Nella sua morte, noi lo crediamo, riceviamo la vita, l'offerta di un amore e di una fedeltà che non arretra per nulla, ma realizza l'alleanza piena, perfetta e definitiva, cioè un Dio per noi sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dice oggi il nostro pane, che benedetta per noi, che benedetta per noi, che benedetta per noi, che benedetta per noi, che non se sovra per la sua vita, che non se sovra per la sua vita, che non sovra per noi, ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo Seno Gesù Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Ave Maria piena di grazia il Signore è con te Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Darci oggi il nostro pane, curiamo, e benedetto da noi i nostri credenti, come a noi che prepariamo i nostri creditori, e non ci dure in testazione come in testazione domani. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo Seno Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exules fili lieve, ad te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, ad avvocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Maria, Madre della Chiesa, raccogliamo nelle nostre mani quanto un popolo è capace. L'innocenza dei bambini, la generosità e l'entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei disoccupati, la solitudine degli anziani, l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l'amore del Padre. E tu, o Vergine Santa, fa di noi dei coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità sia autentica, così da offrire la nostra fede agli increduli, conquistare i dubbiosi e raggiungere tutti. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alla realtà eterna del cielo. Vergine Santa, ti invochiamo perché ottenga alla Chiesa di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mondo il volto del Tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Madre della Consolazione, Santa Bernadette, San Benedetto Abate, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Va un di Bernadette fu scegli a cercare, con due bambinette che il gel fa tremare. Ave, ave, ave Maria, Ave, ave, ave Maria, Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie. 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 Grazie.